La Formula 1 è riuscita ad aggiudicarsi un quinto posto a Monaco che è sempre di grande valore e quindi credo che sia giusto onorare questa prestazione sia per Fittipaldi che per la Minardi che in questo modo riesce a mantenersi sempre. Il team ha lavorato molto bene e io sto molto molto contento. È una grossa soddisfazione venire qui a Monte Carlo, portare via due punti, portare due macchine al traguardo, credo che sia una grossa soddisfazione in un momento difficile come andiamo attraversando noi piccoli team. Credo che sia anche il giusto coronamento a tanto lavoro che stanno facendo i miei tecnici, i miei meccanici, quindi premiano un'azienda in affidabilità e anche in competitività perché in questo momento stiamo raccogliendo dei frutti. Oggi è il nostro record, sette punti in una stagione non ne avevamo mai fatti, quindi stiamo toccando il cielo con un dito. Purtroppo domani lunedì si ricomincia.